In basso la tensione è più alta Ora si è stabilito Il filo è bianco e giallo e va direttamente sulla centrale Oppure c'è quello blu Prendiamo che è questo, però non dà segni di vita Dio bon Ecco, vediamo un pochino Dio santo, questo tester di merda Il problema è che l'ho attaccato al telaio per la maspera in negativo Vediamo un pochino Dio santo, mi dà segni di vita Rattacco su Il bianco e giallo Scusate, è un minimo un po' basso Ok, è un pochino Grazie a tutti.